Napoli in campo prima della Salernitana. Novità per due infortunati, ma prima di vederlo se vuoi rimanere aggiornato sulle principali notizie dal Napoli iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale. La squadra agli ordini di Spalletti si è allenata a Castelvolturno alla vigilia del derby che può valere lo scudetto dopo 33 anni. Mattinata di lavoro per il Napoli a Castelvolturno. La squadra si è allenata alla vigilia del derby contro la Salernitana in programma domani alle ore 15 allo Stadio Maradona. Una partita decisiva per la conquista dello scudetto. Sarà una domenica tutta da vivere, ma Spalletti, che negli ultimi giorni ha recuperato Simeone, non potrà contare sulla Rosa al completo. Le ultime da Castelvolturno prima del derby. Ultimi aggiornamenti per i due infortunati della Rosa. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina, terapie e lavoro individuale in campo. Entrambi salteranno la partita contro la squadra allenata da Sosa. Per l'ex esterno dell'Inter il rientro è vicino, ma non sarà contro la Salernitana, mentre per il terzino portoghese bisognerà attendere almeno altre due a tre settimane prima di rivederlo in campo. Lascia il tuo commento e mi piace per questi due che domani avrebbero meritato di essere in campo per tutto quello che hanno giocato in questa stagione e iscriviti anche al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale perché questo non ti dà notizie false. Forza Napoli, sempre e tutto per lei!